Mi trovo a Gioecilendo, vado ad incontrare il presidente Francesco Longo della Proloco di Gioia, il quale ci fa una panoramica degli eventi che si terranno in questa estate qui a Gioecilendo da parte della Proloco e delle altre associazioni. Diciamo che oggi siamo qui nel convento perché stiamo facendo un convegno insieme al Comune per quanto riguarda rete e destinazione Campania. Poi noi come Proloco facciamo la festa del Belvedere che è l'11, 12 e 13, però anche altre associazioni fanno altre manifestazioni. Infatti già l'associazione Cristian Maio a fine mese farà a Club una manifestazione sportiva, poi ci sta la festa del Lago che verrà fatta da un'altra associazione, Vivi Gioi, e poi ancora Cristian Maio, l'altra associazione che farà un'altra manifestazione sportiva, Beach Volley. Poi ci siamo noi, come dicevo prima, per quanto riguarda festa del Belvedere, 11, 12 e 13 agosto. E poi ci sono altre manifestazioni, anche le parrocchie, insomma tutto il paese viene coinvolto per tutte queste manifestazioni. Allora lei è presidente della Proloco, qual è il compito secondo lei a livello generale affinché le associazioni come la Proloco e anche le altre possano fare emergere i nostri paesi? Indubbiamente loro ci devono stare vicini perché purtroppo noi da soli non riusciamo a fare tutto, prima per le risorse, ma anche per occuparci un po' di tutto ciò che è l'organizzazione stessa, di tutte le manifestazioni. Quindi se abbiamo un supporto a fianco, allora possiamo e quindi riusciamo a fare ciò che ci siamo prefissati, ciò che ci prefissiamo durante tutto l'arco dell'anno. Ci devono stare vicini, quindi ci devono affiancare in tutto ciò che facciamo.